Un bel connubio tra Potenza e Matera che serve anche sotto il profilo sportivo un po' ad unificare questa nostra regione e queste due province, superando anche rivalità e campanilismi. Ritengo che in questo modo BCC Basilicata svolga pieno il suo ruolo di banca del territorio, di banca che è espressione della comunità e dimostra di essere accanto alle realtà sociali che il territorio esprime, dalle associazioni di volontariato del settore che io amo definire civile piuttosto che terzo e accanto alle associazioni, alle società sportive che si occupano del benessere psicofisico dei nostri giovani, dei giovani lucani. Quindi bene così questa partnership è nel segno anche della funzione di sostenibilità sociale e quindi di espressione di quel ruolo della BCC che è conforme ai fattori ISG di sostenibilità dall'ambiente alla governance al sociale. Un veicolo di sviluppo è un veicolo di resistenza, di resilienza territoriale, regionale e la regione piccola ha bisogno di sostegno. È un veicolo anche per mantenere i giovani qua che se ne vanno via per favorire la cosiddetta restanza, che è un termine che indica la volontà di restare sul territorio meridionale con spirito costruttivo, non con spirito piagnone, cercando di fare qualcosa di buono. La banca ha ottenuto risultati eccellenti grazie allo sviluppo su tutta la regione e anche alla sede di staccata di Matera. Noi abbiamo un nome regionale ma abbiamo filiali in tutta la regione e vogliamo uscire da questa dicotomia Potenza Matera e la dimostrazione è che abbiamo le filiali più importanti a Potenza e a Matera e siamo partene sia di una squadra maschile di basket di Matera che è una squadra femminile di basket a Potenza, che oggi si uniscono sotto questo cappello dando vita a un'iniziativa davvero, non dico unica ma insomma interessantissima, che vede uscire dai confini micro che noi abbiamo, dal particolare di quei ciardini, di cui noi italiani purtroppo siamo negativamente protagonisti, a un pensiero più ampio che un pensiero regionale. La menzana in corpo esano, questa è l'occasione per dimostrarlo ancora una volta, sono due squadre giovani, molto motivate e noi da sempre promuoviamo il benessere psicofisico che passa anche e soprattutto dallo sport, quindi sicuramente siamo in prima linea nel supportare la Virtus e anche il Basilia Basket in questa avventura. Tra l'altro, ripeto, sono molto giovani, molto motivati e puntiamo obiettivi molto elevati quest'anno. Di là dei campanilismi di cui spesso si parla tra Potenza e Matera, questa è la dimostrazione che insieme si possono fare tante cose. È un caso, ma sempre quasi non estero, il fatto che da una parte abbiamo una squadra maschile, dall'altra femminile, tutte e due stanno lavorando molto bene e qui siamo presenti sia come Comune di Matera che come Comune di Potenza, che come regione, anche questo è dimostrazione che siamo uniti nello sport e non solo nello sport. Abbiamo una squadra di basket maschile, una squadra di basket femminile, una di Potenza e una di Matera che si presentano insieme. Lo sport abbatte tutte le barriere? Beh, io direi che oggi abbiamo due squadre della nostra amata Lucania. Una regione piccola che si unisce proprio oggi grazie allo sport con Matera e Potenza che sono protagonisti di una giornata bellissima, che celebra un po' la felicità anche di partecipare a questi eventi. E quello che poi lo sport ci insegna è l'unione, l'unione di squadra, l'unione che fa la forza e quindi oggi grazie alla BCC Basilicata siamo qui a Potenza a rappresentare entrambe le squadre, una maschile e una femminile. Una bella esperienza. Gli obiettivi sono sempre ambiziosi, sono ormai da tre anni che facciamo il salto di categoria, siamo partiti dalla Serie D e per tre anni di fila abbiamo fatto salto di categoria e siamo arrivati oggi nella Serie B2, nel basket che conta. Quest'anno il nostro obiettivo è sicuramente fare una bella stagione, ma soprattutto approdare i play-off e chissà, l'appetito va in mangiando, quindi probabilmente il nostro obiettivo potrebbe cambiare nel corso e pensare anche di vincere questo campionato. E' una cosa che veramente volevamo da tantissimi anni, non c'è stata mai un'occasione bella, adesso abbiamo trovato un grande connubio per cui per noi, dal momento che siamo lucani, dal momento che amiamo la nostra terra, allora è giusto che ci sia questa bellissima sinergia fra Potenza e Matera, perché tutti e due apparteniamo ad un territorio meraviglioso che è appunto la Lucania. La banca per noi non è un'istituzione, è un main sponsor, un supporto, un supporto così tanto forte che unisce lo sport anche con la finanza, per cui non è un discorso soltanto istituzionale, ma un discorso che vuole curare assolutamente l'empowerment femminile, dal momento che la banca BCC Basilicata è la banca rosa, diciamo che si accosta tanto alla nostra identità, perché noi abbiamo una identità assolutamente femminile. Quindi chi più BCC Basilicata poteva dare e supportare una realtà sportiva, appunto che intreccia lo sport e la finanza, intreccia allo stesso modo anche un'azione sociale spettacolare. Grazie a tutti!